Allora, cambiamo argomento, cambiamo dati, quelli dinamati dal Viminale a proposito del report di fine anno del servizio analisi criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Allora, 2021, secondo i dati, un calo dei reati rispetto al 19, periodo prima della pandemia, ma una lieve crescita del 5,4 rispetto al 2020. Aumento esponenziale dei crimini informatici, più 35, se facciamo il confronto con lo scorso anno. Gli omicidi sono leggermente aumentati rispetto al 2020, ma diminuiti se rapportati al periodo pre-pandemia. Crescono del 17% gli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali e del 21% verso i giornalisti. Andiamo ad ascoltare il prefetto Vittorio Rizzi su questi dati, il suo commento. La situazione che si restituisce al Paese è di una criminalità sostanzialmente in diminuzione rispetto agli anni precedenti, ma con un incremento importante dei crimini informatici. Il dato che deve far riflettere, per esempio, alcuni reati che tradizionalmente si svolgevano nella vita reale, come per esempio le truffe, oggi per il 65% avvengono online. Il mondo sta cambiando non solo per la pandemia, ma per la importante digitalizzazione in cui tutta l'umanità è coinvolta.